Accanto a quello dell'opposizione contro la riforma costituzionale risuona un altro no, quello del Comitato per il No al Referendum pronto a dare battaglia alle riforme costituzionali ed è proprio mentre l'Aula di Montecitorio approva il disegno di legge Boschi che in un'altra sala si riunisce il Comitato, deciso a far partire ufficialmente la battaglia alla consultazione popolare. Al tavolo hanno preso la parola illustri costituzionalisti come Alessandro Pace, Gianni Ferrara, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebeschi che già nei mesi scorsi avevano fatto sentire la loro voce in dissenso. Il Parlamento ci annuncia una cattiva novella che diventa definitivo il testo della controriforma costituzionale ma noi siamo qui per annunciare una buona novella che è stato costituito il Comitato per il No e che questa riforma sarà bocciata dal popolo italiano al referendum. Presenti anche molti esponenti della sinistra pronti a scendere in campo contro quella riforma della Costituzione voluta dal Governo che mette a rischio la tenuta democratica del Paese. Con oggi, sottolinea il capogruppo alla Camera Arturo Scotto, inizia la campagna referendaria contro il disegno di legge Boschi. Noi siamo convinti che a ottobre i cittadini italiani tra il cambiamento regressivo proposto dal Governo che riduce gli spazi di democrazia per indebolire anche le tutele costituzionali in materia di scuola, lavoro, welfare, tutela pubblica del risparmio e invece la vittoria della Costituzione decideranno con convinzione di stare dalla parte della Costituzione. Sarà una battaglia a viso aperto che faremo nel nome della vitalità, della forza della Costituzione repubblicana del 48, della sua bellezza e della sua semplicità e contro le deformazioni di questa riforma, che non semplifica il procedimento legislativo, lo rende anche più complicato, non riduce in maniera seria il numero dei parlamentari lasciando la Camera a 630 e produce un Senato pasticciato. Quindi guardiamo al voto di ottobre con fiducia e ci metteremo tutto l'impegno e tutta la nostra determinazione assieme poi ai tanti cittadini, comitati, associazioni che autonomamente dal basso diventeranno protagonisti in questa battaglia. Il Movimento 5 Stelle è contro sia le riforme costituzionali che contro l'Italicum, nonostante qualcuno affermi il contrario. Abbiamo dimostrato sia in aula che fuori dal Parlamento con i recenti ricorsi giurisdizionali contro l'Italicum stesso. Oggi noi appoggiamo il neonato comitato per il no, non aderiamo formalmente al comitato per un motivo molto semplice. Vogliamo che questa battaglia che porti a vincere il no contro quelle che noi chiamiamo le schiforme o la deforma dalla Costituzione di Renzi vinca, deve vincere il no. Ma perché vinca? Deve essere una battaglia trasversale dove ci sono tutti i partiti, anche quelle forze che non aderiscono a questo comitato. E certamente non avrebbero diritto al comitato le forze di centro-destra che contestavano la riforma. Quindi noi saremo nelle piazze, faremo eventi, saremo in televisione a dire alla gente votate no al referendum, motivando il nostro no perché l'obiettivo è affossare le riforme e contemporaneamente far cadere anche il Presidente del Consiglio.